Gabriele Mainetti, 37 anni, residente nel borgo di Degania, frazione di Verbano, è deceduto durante una battuta di caccia. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo appossato per seguire una preda sarebbe scivolato da un dirupo, perdendo l'equilibrio con il fucile ancora in mano. Durante la caduta è partito accidentalmente un colpo che lo ha colpito alla testa causandone la morte immediata. Il corpo è stato ritrovato solo il giorno successivo, dopo lunghe ore di ricerche vicino al torrente, vicino a casa sua. Il 12 settembre, all'apertura della stagione di caccia al cinghiale, Gabriele aveva deciso di partecipare subito. Una decisione che gli è costata la vita. Amici e conoscenti lo ricordano con affetto. Grazie per la visione!